Giunta di Pescara in conclave da questa mattina presso il Museo delle Genti, una giornata per discutere degli obiettivi che bisognerà portare avanti nella seconda fase della giunta Alessandrini a pochi giorni dal rimpasto, fortemente voluto dal primo cittadino e che più di qualche polemica ha creato. Con clave mi sembra un termine che evoca altro, è un momento in cui ci ritroviamo in un luogo anche se vuoi suggestivo, un museo cittadino, certamente per parlare della fase 2, di quello che è successo, di un rimpasto di giunta e di prospettive di rilancio per questa seconda fase dell'amministrazione. Lo facciamo in un clima di confronto ampio con la maggioranza, con l'esecutivo, con il Consiglio Comunale, convinti che la circolazione di idee e il dibattito sia sempre un ottimo strumento democratico. Ovviamente non è mai una questione neutra quello di sostituire gli assetti di una squadra, di una giunta, di un esecutivo. Io so che naturalmente è stato un percorso anche complicato dal punto di vista personale, però il punto è che oltre che a parlare con gli uomini della politica, io ho il dovere di parlare con la cittadinanza di Pescara e alla comunità politica. Ho chiesto dei sacrifici in nome di un interesse che mi sembra ben superiore ai destini individuali, ma che attengono appunto alla prospettiva collettiva di una città che deve essere in grado di rispondere alle tante complesse e articolate sfide.